La ripresa stenta a decollare con lei anche i consumi, particolarmente in difficoltà. Il settore turismo è con lui, bar, ristoranti, ma anche negozi dall'abbigliamento agli elettrodomestici. Il governo pensa ad un bonus consumi e raschiando il fondo del barile trova 2 miliardi di euro, ma potrebbero diventare 3 da stanziare con un decreto che potrebbe essere firmato in questi giorni di agosto. Provvedimento che le categorie economiche vedono di buon occhio. Abbiamo visto dai dati della Banca d'Italia che invece i risparmi sono cresciuti in maniera importante, vuol dire che del denaro nelle famiglie ce n'è e c'è la paura di spenderlo, per cui tutto ciò che arriva come provvedimento di aiuto è ben accetto. Da capire ancora però il meccanismo di sconto, se attraverso rimborsi direttamente ai contribuenti o attraverso CARD, il POS per intenderci, e su quest'ultimo punto Confartigenato è chiara. Non deve essere a carico dell'impresa. L'uso del banco, ma soprattutto per piccoli passaggi, diventa veramente costoso, perché non è mai stato fatto un provvedimento che vada a calmierare o a fissare i costi fissi che l'impresa ha. Costi peraltro che ricadrebbero ancora una volta sul consumatore. Critica sul provvedimento l'assessore regionale Donazzan. A me pare poi una pezza che viene messa e che genererà solo tante risorse pubbliche buttate. Non è detto che funzioni. Io invece avrei preferito misure più robuste in aiuto alle imprese. E quindi vuol dire abbassare le tasse alle aziende che hanno sofferto molto, anche al mondo del piccolo commercio.